Partiranno la prossima settimana i nuovi interrogatori e ci sarà anche l'inchiesta bis sull'ex prefetto Provolo riguardando le telefonate di tuo fratello che fece in quei drammatici giorni. Sì, la prossima settimana ci sarà l'intervento da parte della procura ad ascoltare di nuovo l'ex prefetto di Pescara, Rangiosco Provolo, vediamo cosa emergerà, che cosa dichiarerà questa volta. Io non sono più fiducioso nello Stato né in niente, più che altro io posso ringraziare solamente il corpo forestale dello Stato, solo loro che stanno facendo le indagini, per il resto la prefettura e tutte le persone che ci lavorano non ho proprio più fiducia. Di questa inchiesta bis, di depistaggio, ti aspettavi tutto questo o è stato anche per te una sorpresa? No, diciamo che me l'aspettavo e non me l'aspettavo, perché conoscendo Gabriele faceva di tutto per la sua incolumità e quella degli altri. Mi dispiace che le sue chiamate, tutto quello che ha fatto e tutto il suo operato non è stato ascoltato. Adesso potevamo parlare di altro secondo te? Sì, potevamo parlare di 40 persone vive, di un brutto ricordo, diciamo, che dopo il 2015 chi ci governava doveva evitare questa cosa qua. Ricordiamoci che il 2015 l'albergo è rimasto bloccato per tre giorni con l'intervento di un elicottero di gel fuoco. Ricordiamoci che il 2015 l'albergo è rimasto bloccato per tre giorni con l'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento.